Buongiorno a tutti amici e amiche di Volonbrite, siamo qui in via San Marino all'inaugurazione della mostra collettiva Avamposto che è stata promossa dalla divisione dei servizi sociali del comune di Torino in collaborazione con l'associazione Forma in Bilico. Come al solito per queste belle occasioni abbiamo l'opportunità di scambiare due chiacchiere con la nostra Assessore Sonia Schellino, Assessore al Welfare. Assessore, una valutazione delle impressioni su questo evento, su questa giornata e soprattutto su questo nuovo spazio di mostre. Bene, io sono molto contenta che finalmente abbiamo tirato fuori dagli armadi e dagli archivi un sacco di belle cose. Era da tempo che volevamo farlo, vogliamo mostrare tutto, tirare fuori tutto perché il lavoro che hanno fatto in tantissimi anni le persone che lavorano, cioè che frequentano questi servizi insieme agli educatori, ai lavoratori del settore e quindi è bello mostrarlo a tutti quanti. Ci sono delle cose che speriamo di vedere nelle mostre internazionali e non solo nella nostra piccola mostra, ma si comincia sempre da qualcosa. Cominciamo a ricoprire tutte queste pareti di allegria, di colore e di un pezzetto dell'anima delle persone che hanno collaborato, che hanno lavorato in tutto questo periodo. Perfetto, quindi diciamo ha una doppia valenza questo spazio, sia come spazio espositivo ma anche come spazio arricchito un po' da queste opere d'arti. Noi ringraziamo l'assessore e vi auguriamo buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.